Il consigliere di minoranza del comune di Agropoli, Agostino Abate, ha scritto un'ennesima lettera al prefetto. Lo abbiamo raggiunto per chiedergli le motivazioni. Allora, per rispondere alla tua domanda, caro direttore, ti dico che fino a quando non sono stato in grado di verificarlo più volte, mai avrei pensato di assistere a uno spettacolo così squallido, moralmente, culturalmente e politicamente. Mai avrei pensato che tanti consiglieri comunali fossero stati resi capaci di intendere e di volere in Agropoli una dittatura così particolarmente arrogante nei confronti di una minoranza, che fino a prova del contrario e fino a ieri è stata sempre tagliente ma comunque corretta, educata. Mai avrei pensato che in un paese democratico il consiglio comunale venisse considerato addirittura un intraccio, un fastidio, un'inutile perdita di tempo. Mai, e dico mai, avrei pensato di assistere a sceneggiate come quelle che si sono verificate nel corso dell'ultima seduta consigliare di fine anno, quella del 31 dicembre 2020, laddove ero assente per le motivazioni che ho già riferito ai telespettatori di Cirente Channel in una mia precedente intervista. Chiunque si oppone a questa maggioranza non trova ascolto delle sue legittime ragioni né nelle figure politico-istituzionali a ciò preposte, né nelle figure sovraordinate, tipo quella del segretario generale dell'Ente. Come minoranza ho inteso e intendo ribellarmi, reagire a questa dittatura, che oltretutto è una dittatura nemmeno più celata, ma è addirittura diventata praticamente strafruttente. Ho scritto al prefetto, gli ho comunicato e documentato la mia contestazione sull'abuso di autorità che si perpetra continuamente nei confronti di questa minoranza e che addirittura, oltre a essere perpetrato in questo modo, mi costringe ad assentarmi dei consigli comunali perché non sufficientemente documentato nei tempi e nei modi e mi ha costretto, così come l'altro giorno ho dovuto fare, a dimettermi dalle commissioni consigliari permanenti. Ho documentato al prefetto tutte le mie richieste che sono rimaste inascoltate da parte anche di chi deve sovraintenderci, da parte anche del segretario generale. Ed ho anche riferito al prefetto in un modo molto, ma molto chiaro e semplice che per documentarsi meglio basta convocare il Collegio dei Revisori, che è un ente di controllo effettivamente subordinato, convocare il Collegio dei Revisori che ha assistito a tutte le farmeticazioni che si sono verificate da parte della maggioranza nel corso della seduta consigliare di fine anno.